La fibromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all'apparato muscolo scheletrico, stanchezza cronica, tremori, sbandamenti, vertigini e nebbia cognitiva. La fibromialgia è silenziosa e invisibile. Tu non la vedi, ma se solo la potessi vedere con i tuoi occhi, sarebbe così. Fibromialgia. Usciamo dal buro. Associazione Libello La Libera. Con te.